Montagne affollate mai in passato come in questa anomale estate segnata dalla pandemia e come era immaginabile si moltiplicano gli escursionisti improvvisati solo in questa ultima settimana sul territorio di competenza della stazione della Valsassina, complice anche la massiccia presenza dei turisti, sono stati effettuati otto interventi di soccorso con il recupero di ben dieci escursionisti illesi che hanno perso l'orientamento. Gli ultimi due in ordine cronologico nel tardo pomeriggio di ieri, il soccorso alpino è stato allertato poco dopo le 18 per due persone bloccate sul sentiero del Cardinale, tra il lago di Sasso e il pizzo Tresignori nel comune d'Introbio. Un uomo di 31 anni, residente nel milanese e una donna di 29 e delle varisotto erano partiti da Ornica nella Bergamasca dopo essere saliti sul pizzo Tresignori. A causa di una leggera copertura di nebbia presente in quota hanno perso l'orientamento e si sono spostati sul versante lecchese della montagna. Allora hanno allertato il numero unico di emergenza 112, si sono attivati i tecnici del soccorso alpino per individuare il punto esatto in cui si trovavano, tramite le coordinate geografiche e per stabilire la strategia di intervento. Un soccorritore era già sul posto al rifugio Santa Rita, dopo circa mezz'ora è riuscito a localizzare i due escursionisti illesi, sono stati raggiunti e accompagnati in Val Biandino. Pochi minuti dopo, nuovo allarme per un mancato rientro. Una coppia dalla provincia di Bergamo, di 48 e 45 anni, stava percorrendo un sentiero in Val Marcia, nella zona dei piani delle Betulle, comune di Casargo. Hanno sbagliato il sentiero, sono scesi verso l'abitato di Prima Luna. Per fortuna è stato possibile mettersi in contatto con loro attraverso il telefono e quindi è stato possibile localizzarli con le coordinate GPS. Una volta raggiunti, i soccorritori hanno constatato che non avevano bisogno di assistenza sanitaria e quindi li hanno accompagnati ai piani delle Betulle. L'intervento si è concluso alle 22.